Sul nostro territorio, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, sono state finanziate da Cassa Depositi e Prestiti tutte le opere che troviamo sul territorio, dalle fognature all'acquedotto, al depuratore, alle scuole. Perfino l'Università di Neologia ha trovato sede nel nostro territorio, con beneficio per tutta la comunità. I finanziamenti con Cassa Depositi e Prestiti hanno riguardato mutui che hanno permesso al Comune di San Pietro Incariano di fare il site di qualità.